Questa sera abbiamo un ospite che copre un'azienda che ancora ci mancava, non avevo mai intervistato nessuno in Amazon e onestamente conosco poche persone che lavorano in Amazon, per cui sono molto interessato a capire un po' come funziona lì, come si entra, cosa si fa, neanche Apple, ma Apple sarà dura. Ho un caro amico che è senior manager in Apple, ma non lo porterò mai perché non parlano neanche, nessuno parla, ma in Apple è ancora più complicato. Comunque, without further ado, lasciamo entrare il buon Marco. Ciao Marco. Eccoci qui. Buonasera a tutti. Buonasera, Marco, ovviamente Marco non parla per Amazon, ovviamente questo non serve che lo specifichiamo ogni volta, ma specifichiamolo anche per rispiegare l'ovvio, il nostro buon Marco Berlò. Bravo, sì. Pronuncia francese. Eh sì, sì, è un cognome francese. Puoi introdurti? Assolutamente sì, sono Marco, ho 28 anni, sono cresciuto in Italia, metà italiano, metà francese, e adesso sono ingegnere da Amazon, dove mi occupo di intelligenza artificiale, la parte ingegneristica di intelligenza artificiale, più che quella di ricerca, che poi potremmo approfondire. Nella vita ho studiato in Italia, il Politecnico di Torino, come per la triennale, ho fatto un anno di esperienza come doppia laurea in Cina, Shanghai. Bello, poi ne parliamo. E poi ho andato negli Stati Uniti, ho vissuto per sei anni negli Stati Uniti, e poi adesso sono due anni che sono a Londra. Wow. E quanti anni hai? È a 28, 29 quest'anno. Quando mi dicono a me che tu sei cresciuto in un'epoca fortunata, io a 29 anni stavo ancora a casa, non con la mamma e col papà, ma stavo a casa. Bene Marco, allora, vediamo un po', tu lavori in Amazon, da quanto tempo? In realtà è una cosa abbastanza recente, adesso sono cinque mesi che sono ad Amazon, sì. Ok. Quindi è di recente, ho iniziato qua a Londra. Nonostante sia recente, faccio già un sacco di cose interessanti, quindi c'è parecchio materiale se si volesse parlare appunto di... Ok, c'è già chi chiede domande un po' tecniche, ma vi sto segnando i commenti interessanti che poi riporterò. Allora, raccontaci un po', intanto, tu stai nel lato ingegneristico di machine learning, puoi spiegarci un po' meglio cosa intendi? Sì, sì. Diciamo che quando si parla di machine learning c'è un percorso che va dalla ricerca fino a quando, diciamo, l'intelligenza artificiale viene utilizzata dai clienti, no? Quando la utilizziamo su uno schermo di un computer o di un telefono. E ci sono tanti step in mezzo e diversi team e diverse competenze che vanno utilizzate in base a questi step. E diciamo che quando si passa dalla ricerca, quindi capire che modelli utilizzare, fare il training di questi modelli, poi bisogna capire come metterli in production. Cioè, come facciamo ad avere questo modello utilizzato da milioni di persone al giorno? Come facciamo a costruire un'infrastruttura che sia stabile, affidabile? Ok? O diciamo il più economico possibile. E poi ci sono in realtà anche tante cose che non si vedono spesso. Ma quando noi vediamo e ci interfacciamo con l'intelligenza artificiale, abbiamo spesso l'impressione che sia un modello, un grande modello e basta. In realtà ci sono tante componenti che interagiscono tra di loro. Spesso e volentieri sono più modelli insieme che si parlano, che si mandano delle informazioni in modo molto intelligente. E c'è una grossa parte ingegneristica da fare per poter fare questi scambi di informazioni in modo affidabile, in modo veloce. E questa è una grossa parte, diciamo, ingegneristica. Non di ricerca e ha delle competenze che sono proprio quelle da software engineer, di sistemi distribuiti, di software, di architettura e questo tipo di... Ok, quindi penso che abbiamo un background piuttosto simile anch'io. Molto back-end engineering. Hai parlato anche di serving essenzialmente, quindi come servire, come far scalare l'infrastruttura di serving e così via. Quindi tu non stai nella parte di modeling, quindi il tuo background non è... non sei un machine learning engineer, sei un software engineer. Esatto. Sono un software engineer, adesso si utilizza un po', vedo la parola AI systems. Dove si cerca un po' di far capire... No, di far capire, dove si cerca di trovare... di dare idea del sistema che c'è intorno al modello. Di tutta la parte che c'è intorno, dai database, che sono dei database speciali per l'intelligenza artificiale, dai modelli di comunicazione, dall'infrastruttura, da cose anche molto basse di linguaggio, come i driver della GPU. Quindi quello viene un po' raccontato come AI systems. Quindi diciamo, il ruolo è quello. Io ho fatto un lavoro simile al tuo per un anno e mezzo, tra il 2020 e il 2021, però stavo nel lato training, quindi davo supporto, come dire, infrastruttura per training. Tu non stai nel lato training, se ho capito bene. Anche? Ma in realtà dipende. Adesso c'è un po' di tutto, perché c'è un po' di, diciamo, pressione di far uscire cose, perché Amazon si sente che deve far uscire queste cose di intelligenza artificiale, e quindi si fa un po' di tutto. Adesso ti chiedo, noi di... Oggettivamente, io personalmente di Amazon e AI, assieme conosco poco. Cioè, cosa puoi dirci, che sono queste informazioni già note, che però magari non tutti noi sono aggiornati a riguardo. Cosa sta facendo, che pubblicamente ha annunciato già Amazon in ambito AI? Sì, allora, in realtà ci sono tante iniziative. Una cosa da ricordare, secondo me interessante, è cos'era Alexa quando è uscita Alexa. Perché comunque Amazon ha sempre avuto questa cosa di poter portare l'intelligenza artificiale abbastanza all'avanguardia, molto però economica. Cioè, quando effettivamente era uscita Alexa, era relativamente molto intelligente e costava relativamente poco. E siccome questa cosa continua, adesso, ad esempio, la nuova offerta sulla quale sto lavorando io, si chiama Rufus, è pubblica, ma solamente negli Stati Uniti. Ok. Ed è un'interfaccia che permette di interagire molto simile a GPT o Gemini, insomma, le grosse offerte di intelligenza artificiale, però specifiche sui prodotti. Quindi quando si è su una pagina di un prodotto si può chiedere delle informazioni come, per esempio, io vorrei comprare questo prodotto qua, ma che batterie mi servono? E allora l'intelligenza artificiale è in grado di darti informazioni dettagliate su quale tipo di batterie bisogna comprare. Ma siamo sempre nell'ambito dei large language models oppure in realtà non è un large language model? È un large language model, sì. Ok. Però con due, secondo me, difficoltà interessanti da affrontare che non tutte le altre aziende hanno. La prima è che è gratuito. Ok. Quindi bisogna veramente fare un'attenzione sui costi, no? Perché non è che c'è una membership Amazon plus gold per utilizzare l'AI di Amazon. Questo è un prodotto gratuito. Finalizzato, ovviamente, a far comprare le persone su Amazon. Sì, stavo per dirlo io. Sì, sì, ovviamente sì. Però a livello di infrastruttura ha delle restrizioni abbastanza importanti. Perché non possiamo spendere tutti i soldi che magari altre aziende si possono permettere di spendere o mettiamo molta attenzione per cercare di non spenderli. e quindi c'è tanta attenzione su questo. L'altra cosa molto interessante del sistema è che la visione, e ci stiamo lavorando, è quella di permettere di avere un contesto sulla storia che si ha su Amazon. Per esempio, questa domanda sulle batterie, su un prodotto, una persona potrebbe farla su un prodotto che ha acquistato tre mesi fa. E a livello ingegneristico è complessa come cosa, perché bisogna andare a pescare questo prodotto che si ha comprato tre anni fa, capire come passarlo all'LLM. Quindi c'è una grossa parte che ha a che vedere con prendere informazioni da sistemi diversi, ad esempio la storia dei propri acquisti o i prezzi storici, una cosa che costava, aveva un costo un mese fa e un costo adesso, raggrupparli e passarli all'LLM in una maniera diciamo coerente e efficiente. Ok. Per chi è di mestiere questa cosa si chiama RUG, viene utilizzata, sì, sta per Retrieval Augmented Generation. Però, insomma, è una cosa che viene utilizzata tanto, però secondo me ad Amazon stiamo facendo un lavoro molto interessante, perché c'è tanta, quello che viene detta, evidence. Quindi tante informazioni che si possono raggruppare per dare delle risposte coerenti alle persone che utilizzano l'intelligenza artificiale di Amazon. Tu dici che è gratis, però alla fine è un servizio che se fatto bene, se usato bene, porta molti soldi ad Amazon, non in termini di subscription esterna, ma in termini di persone che trovano risposte alle domande e comprano cose, no? Sì, però è difficile da misurare questo impatto. Ok. E quindi a livello di budget e tutto ci sono dei requisiti. Dei limiti, chiaro. Intanto ti faccio un po' di domande parallele, perché molti vedo che in chat cominciano a chiedere, ma Amazon o AWS? Come se fossero aziende diverse. ma non sono da AWS e Amazon. AWS e Amazon, sì. È un'organizzazione a parte dalla mia. Io sono nell'organizzazione adesso di Rufus, quindi di questa intelligenza artificiale. E sì, AWS fa parte di Amazon. Usiamo AWS anche noi. Chiaro, chiaro, chiaro. E come gestite i casi, perché non esiste più il listing del prodotto? Vabbè, immagino che abbiano lo storico per cui comunque a creare l'augmented, l'input aumentato sia comunque facile lo stesso. Poi avranno modo di dire non esiste più quel prodotto da vendere. Immagino. Però questo tocca un punto interessante è che, ad esempio, quando uno usa, quando uno magari usa GPT, adesso non so più, però ti dicevano che aveva fatto il trend, fino al 4 di settembre dell'anno scorso, e quindi era ferma lì. Noi non possiamo fare una roba del genere. Cioè, se uno rimuove il listing da Amazon oggi, noi dobbiamo essere molto efficaci nel far sì che l'intelligenza artificiale, Rufus, non risponda più con quel listing il giorno dopo o due giorni dopo. E quindi questo è proprio una delle domande che ci facciamo della parte ingegneristica, di come facciamo ogni giorno ad aggiornare questa parte di Recival, e i dati sono tanti. Cioè, ci sono proprio tanti prodotti su Amazon. Chiaro. E che non rifate il training del modello ogni giorno, immagino. No, no. Infatti. Soltanto il fatto che il modello va a prendere dati in qualche repository e se non li trova... Esatto. Interessante. Sembra poco AI, cioè, sembra basso il need for AI, perché alcune domande sono molto standard, immagino. Forse la parte di natural language comprehension, pure lì la parte più complicata, ma ce l'avete già in casa. C'è una parte, in realtà, la parte di Retrieval è anche fatta con intelligenza artificiale. Ti do un esempio. Un progetto a cui sto lavorando particolarmente adesso è la parte multimodale. Quindi è permettere di rispondere con delle immagini o dei video. Ok. Quindi, per esempio, se tu sei sulla pagina di un iPhone e chiedi se quell'iPhone esiste di colore nero o bianco, noi dobbiamo trasformare questa domanda e andare a vedere tutte le immagini che abbiamo per questo prodotto e selezionare le immagini, diciamo, che rispondono in modo corretto, più rilevante a questa domanda. E questo si fa con una ricerca semantica che è fatta con un modello che abbiamo. Quindi, in realtà, non è un if and is, non è una semplice. La rilevanza è molto difficile da arrivarci a averla in modo, diciamo, corretto. In questa pipeline, tu cosa fai in particolare? Qualcosa hai lavorato, se puoi dirci un po' qualcosa? Sì, sì. Adesso, in realtà, ci sono diversi progetti interessanti. Uno è proprio la parte multimodale, quindi capire effettivamente come lavorare con le immagini, quindi estrapolare il valore semantico delle immagini con dei modelli esistenti dal nostro team di ricerca. E una parte a cui stiamo anche lavorando è dove salvare questi dati, perché la ricerca semantica funziona in una maniera per cui tu prendi delle immagini o del testo e le trasformi in dei vettori relativamente grandi. E ci sono dei database specializzati per, diciamo, salvare questi vettori e fare delle operazioni. E noi ne stiamo costruendo uno che è basato su dei paper di ricerca. Quindi qua non so quante informazioni posso dare entro in un territorio Siamo nel mondo dell'embeddings, praticamente. Esatto, quindi costruire un database di embeddings performante, diciamo, il più cheap possibile. Quindi lo stiamo facendo in Rust, quindi è un linguaggio molto interessante da fare, cosa del genere. Quindi, di nuovo, molto ingegneristico, però con un no use case molto per l'intelligenza artificiale. Ok, figo. Se avete domande, ragazzi, fate, perché se qualcuno è super interessato al mondo Amazon non potrà mai rispondere a cose del genere, ovviamente. Intanto metterò in highlight qualche domanda, ma tu se vedi e puoi rispondere a qualcuna di lato fai pure. Volevo chiederti perché hanno scelto Rust al posto di C++? Diciamo che sono... Sì, C++ ha stesse... simili vantaggi, molto... La ragione per cui abbiamo scelto Rust è per la performance, effettivamente C++ è un linguaggio che dà anche la stessa cosa. Secondo me, è perché Rust adesso è anche un po' di moda, quindi se uno ha da scegliere tra Rust e C++ tende a buttarsi... però non lo so in realtà. Con Rust puoi essere molto molto performante lo stesso e magari la differenza, il salto, diciamo, di differenza di performance scendendo al C++ non è così rilevante in termini di risparmio, però aumenta la... il Rust è un linguaggio più leggibile, più più... Che poi dopo per fare le cose performanti devi comunque andare nella parte unsafe e quindi fare porcate lo stesso, però vabbè, questo è un altro discorso. Sono curioso di sapere come si è entrato in Amazon. Sono entrato... Come è stato il colloquio? Il colloquio per Amazon è stato un colloquio abbastanza standard nel quale ho fatto il solito round di online assignment che forse questo Amazon è abbastanza unica nel fare l'online assignment. Beh, lo fanno quasi... Non so che anche Google lo fa adesso almeno per l'internship per i livelli bassi lo fa anche Google, poi non so le altre non lo so onestamente. Sì, quindi c'è l'online assignment e poi phone screen e dopodiché c'è stato l'onsite se ho dimenticato phone screen tecnica quindi lead code e on-site se non sbaglio quattro colloqui di lead code e uno di system design. Standard tipo Google interview. Ok. e behavioral e behavioral e behavioral Ok. La tua preparazione ha detto che... Facciamo un salto indietro poi dopo torniamo su Amazon c'è mille hanno chiesto altre cose ho già visto qualcosa dell'occhio ma ci arriviamo più tardi. Sono curioso di tornare un po' alla tua formazione tu hai studiato al Politecnico di Torino. Sì io ho fatto la triennale del Politecnico di Torino in computer science era una laurea in inglese laurea in inglese al Politecnico di Torino ok che è stata secondo me un gran vantaggio farla in inglese non tanto per l'inglese ma per le amicizie e le persone che ho incontrato nel percorso di laurea in inglese perché erano tutte persone percorso in inglese fatto in Italia ok e sono standard tutte queste cose sarà che sono vecchio ai miei tempi non esisteva questa roba qui c'è oggi università come il Politecnico di Torino regolarmente ogni anno offre corsi di laurea in inglese sì 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 ogni anno offre corsi di laurea in inglese sia triennale che magistrale forse non tutti per corsi di laurea parliamo del mondo informatica cioè se quindi se in informatica esiste in inglese cavolo se qualcuno sta al Politoi non la fa in inglese ha il mio disprezzo a vita nelle magistrali anche a Perugia addirittura ma stiamo ok ok quindi triennale in lingua inglese al Politecnico Torino in computer science quindi informatica pura come è stata l'esperienza di fare le lauree in inglese i professori erano italiani o c'era qualche professore straniero i colleghi erano italiani o c'era qualcuno che veniva dal resto del mondo allora tra l'altro scusami mi correggono era computer engineer cioè era con ingegneri informatica ok la solita ok i professori erano tutti italiani ok nel mio caso erano tutti italiani wow ragazzi vedo che poi in tutta Italia anche in sapienza bello bello ragazzi cioè no brainer quasi in tutta Italia vedo Polimi tutte le magistrali sono in inglese 90% wow bello bello scusa ero un attimo non sapevo questa cosa qui figo ok sì sì professori tutti italiani diciamo che tutti quanto carini il professore maccheronico no oppure maccheronico in alcuni casi limitava proprio un po' la comunicazione cioè ricordo che alcune volte era difficile studiare perché non c'era la stessa diciamo questo stesso livello di 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 lingua rispetto alle spiegazioni in italiano quindi si è perso secondo me un po' di qualità ok interessante perché diciamo che non tutti i professori erano professori che avevano studiato all'estero si vedeva una differenza quando magari avevi il professore che aveva studiato negli Stati Uniti avevano un inglese ok ma al di là dell'esposizione della lingua i libri di testo erano diversi tutti in inglese a parte già anche ai miei tempi molti libri erano in inglese però c'erano i libri scritti dai professori che erano in italiano quindi qua immagino che anche i libri di testo ma anche per fare domande al professore tutto in inglese ovviamente sì anche perché considera che comunque una percentuale una grossa percentuale era la gente non italiana in questi corsi cioè questi corsi sono anche fatti forse soprattutto per chi viene a studiare da fuori e non sa l'italiano o non lo sa così bene come l'inglese per poter studiare ingegneria quindi gli esami erano semplificati tipo all'uni sa che è saverno immagino gli esami in inglese ma dicevano sta cosa anche al Politecnico di Torino ma no non penso proprio perché l'idea è che è un programma internazionale non è un programma per italiani da aiutarli e dirgli già che lo fate in inglese vi facciamo gli esami più semplici quindi no gli esami erano gli stessi poi varia dal professore sono anche professori diversi quindi c'è il professore che è più facile o meno facile gli studenti internazionali intendi proprio on site cioè a Torino vengono studenti dall'estero per venire a studiare informatica sì sì c'era tanta gente dal Pakistan poi quando fanno gli scambi ad esempio lo scambio che ho fatto io in Cina io sono andato con un gruppo di italiani per un anno l'anno dopo sono venuti un gruppo di cinesi sono venuti al Politecnico di Torino e ovviamente loro erano nel programma in inglese quindi tutti quelli che fanno scambi vengono e sono nei programmi in inglese ok ok figo figo c'è chi dice questo non so se è confermato che il governo attuale vuole ridurre il numero di corsi lauree in inglese per valorizzare spero che sia una battuta spero non conosciamo una riconoscenza di questo mondo e quindi poi hai fatto l'esperienza in Cina sì cioè era un programma di doppia laurea che sono abbastanza convinto esista ancora si chiama Poli Tong ed è un programma in cui studenti italiani del Politecnico di Torino del Politecnico di Milano vanno per un anno in Cina per conseguire una doppia laurea facendo un anno all'università si chiama Tongji a Shanghai e vanno lì un anno e un gruppo di studenti cinesi l'anno dopo viene in Italia per studiare e quindi sono andato in Cina per un anno ero in questa università a Shanghai è stato abbastanza è stato un anno molto interessante perché la cosa forse più bizzarra di tutto è che avremmo l'idea prima di partire che saremmo stati a Shanghai quindi ci immaginavamo la grande città al centro a far festa a vent'anni e in realtà poi eravamo nella periferia proprio a un'ora e mezza dal centro di Shanghai in un campus enorme bellissimo però insomma non c'era l'internazionalità e la città cosmopolita che ci immaginavamo invece c'era di più la campagna quindi erano tutti cinesi immagino erano dei pochi internazionali sì al campus erano proprio pochi gli internazionali soprattutto perché era un campus enorme quindi c'erano veramente tanti studenti cinesi noi eravamo in un dormitorio di studenti internazionali tanti italiani c'erano anche delle persone dalla Francia dalla Germania qualcuno dagli Stati Uniti ma 50 persone al massimo se non sbaglio su migliaia di studenti però che tutto il percorso è stato fatto con quella lingua inglese anche lì quella la promessa era di studiare il cinese che parla inglese nazionale sì quella è stata una difficoltà diciamo mentre in Italia diciamo la barriera del linguaggio per un italiano è facile da superare perché un professore che parla con l'accento italiano però un professore cinese che parla con l'accento cinese è tosta per un italiano quindi ricordo una roba divertente avevamo un corso di analisi complessa e il professore faceva proprio fatica a spiegarlo in inglese e ci siamo tutti preparati con dei video su youtube della RAI degli anni 90 dove faceva c'era un professore di Politecnico di Torino se non sbaglio che faceva il corso di analisi complessa era fatto benissimo però vecchissimo e l'abbiamo passato tutti bene questo esame perché era ce lo siamo spiegati a seguire il professore no no fantastico come era la vita come era vivere in Cina da studente il fatto che sia una società diversa con i suoi noti problemi controversie ha pesato molto soprattutto beh Cina tu hai visto un angolo non so quanto poi hai girato visitato quanto sei hai vissuto quell'ambiente quella periferia sì ma allora ho viaggiato abbastanza mentre ero in Cina quindi ho visto parecchio del paese nonostante sia un paese enorme è stato molto bello anche perché la Cina è un paese che per un ventenne noi avevamo anche una borsa di studio quindi non solo non pagavamo l'affitto ma avevamo anche un po' di soldi extra che ci hanno coperto un po' di viaggi e un po' di tempo passato ok ok quindi un bel vantaggio la Cina secondo me è un paese che è interpretato molto non in modo corretto da fuori è vero che ci sono un paese insomma con un governo forte ci sono dei problemi ma secondo me c'è una grossa distorsione di quanto effettivamente è molto diverso viverci parlare con le persone che ci abitano lì studenti ragazzi ragazze o vederlo sui telegiornali o sentirne parlare secondo me c'è una grossa differenza cioè noi ci siamo trovati comunque molto bene nonostante delle difficoltà di la differenza di cultura ci siamo trovati benissimo ed è un paese stupendo da viaggiare da vedere è meraviglioso hai detto mi hai detto che sei andato anche in Tibet sì sì quello era diciamo un sogno di andare a me piace molto la montagna vorrei andare in Tibet e sono andato prendendo un treno da Shanghai che sono gli opposti del paese un treno che ci ha impiegato 50 ore 50 ore su quel treno però è stata un'esperienza bellissima perché viaggiare e andare soprattutto nei posti remoti da non cinese è riana cavolo 50 ore sono due giorni e spicci sì almeno un treno solo da 50 cambi quello è buono sì sì un treno solo con il letto eravamo sei letti per stanza tre livelli si giocava a carte con i cinesi anche nonostante il mio livello di cinese non fosse molto basico però il programma si chiamava Uninet1 sì infatti mentre dicevi queste cose qui mi fanno pensare Uninet1 sì era quello poi c'era le 3 di notte sulla Rai io guardavo Analisi 1 vabbè ha fatto benissimo tra l'altro solo che ha le 3 di notte come funziona la didattica universitaria cinese in generale esami lezioni quanto diversa da quella occidentale è ecco diversa da quella occidentale secondo me la didattica cinese si rifà molto al modello americano quindi è molto simile a quella occidente ma molto diversa da noi anche la nostra didattica è molto diversa da quella americana la didattica cinese funziona è come se fosse un'estensione del nostro liceo quindi esami che però sono più verifiche che esami quindi ogni 2-3 settimane test quiz bisogna sempre essere preparati chiamano alla lavagna ci chiamavano alla lavagna a fare dimostrazioni una cosa che pensavo dopo il liceo di essermi tolto invece sì però anche gli esami non c'è questa cosa di dover fare un corso per magari 5 mesi avere una pausa esami di un mese e diciamo 3 ore per passare l'esame dove se diciamo quella giornata hai un po' di mal di test o qualcosa che non funziona rischi di tempo è un modello più da come dire da scuole superiori appunto molto meno da da persone che è autonoma e sa gestirsi studia in proprio si prepara si presenta ad un esame eppure più popolare nel mondo a questo punto viene da dire e anche più porta più risultati perché l'America e la Cina sono leggermente avanti come tecnologia che strano non lo so mi fa strano secondo me c'è anche il fatto che oltre a questo c'è tanta pratica in tutti e due i paesi soprattutto negli Stati Uniti cioè questa velocità di interazione sulla conoscenza ha sempre anche una parte pratica dei lavori di gruppo è molto meno individualista che l'università cioè bisogna affidarsi anche agli altri bisogna costruire dei progetti insieme ci sono siccome tutte queste altre cose che preparano gli Stati Uniti e anche la Cina penso a essere soprattutto nell'ambito ingegneristico secondo me degli ingegneri migliori ok 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 figo sono socievoli i cinesi sono socievoli i cinesi sì bisogna sono un po' più difficili da approcciare rispetto magari agli italiani però una volta che si siano un rapporto di amicizia lo sono molto immagino ultima domanda a riguardo come hai avuto accesso come hai avuto accesso a questo programma allora si può dire doppia laurea oppure è stata un'esperienza cioè tu hai qualche titolo anche cinese oppure no allora è un'esperienza di doppia laurea però se si vuole effettivamente prendere la doppia laurea bisogna tornare dopo la triennale a fare un tirocinio di sei mesi ok io non l'ho fatto io non l'ho fatto alcuni miei compagni di università l'hanno fatto diciamo che la doppia laurea in sé non è che certo rispetto all'esperienza diciamo il valore che dà l'esperienza in sé secondo me è minimo accesso a avere questo programma in realtà è abbastanza semplice basta andare abbastanza bene con gli esami ai tempi se non sbaglio i requisiti erano quelli di siccome si va al secondo anno è tutto basato sul primo anno bisogna passare tutti gli esami forse si poteva non passarne uno ok e poi c'era una graduatoria quindi ogni anno variava un pochetto si faceva un colloquio per capire in realtà se uno sapeva l'inglese deve avere un po' di spirito dobbiamo vedere se sarebbe sopravvissuto diciamo un anno in Cile con l'occhio di sbarramento però sì la verità è che se uno fa bene gli esami immagino che la grande barriera sia sapere che esista questa opportunità immagino che non tutti applicavano subito sempre o anche altre destinazioni praticamente se uno vuole il secondo anno può fare programmi del genere anche in altre nazioni immagino non so in quante altre nazioni ci siano perché i programmi di scambio tendono a essere tanto durante la magistrale durante la triennale soprattutto il secondo anno non so quanti ce ne siano escludendo Erasmus la bellezza di questo programma è che è tutto fatto col Politecnico quindi gli esami che avresti fatto il secondo anno al Politecnico li fai in Cina non so quanti altri ce ne siano tant'è che io non è che volessi andare specificamente in Cina volevo andare da qualche parte e quello era e sono andato questa è una grandissima scelta però ma tornando indietro tu arriviavi all'università come in che condizioni cioè tu hai scelto informatica perché eri appassionato sin da bambino o altre cose eri genietto quali sono le tue condizioni che ultimamente una delle critiche che spesso ricevo è abbiamo tante gente o super dotata oppure con famiglie che coprono costi inimmaginabili alle spalle com'è la tua condizione? in realtà è molto diversa da questo non sono mai stato uno che l'informatica non mi ha mai appassionato più di tanto non ho scoperto l'informatica fino a tardi in realtà anzi alle superiori era la mia classe la mia materia materia che proprio facevo molta fatica perché non mi piaceva si faceva in pascal però sì esatto c'è il problema anni meno di me si fa in pascal ancora dai ma perché perché però la verità è che quello che mi è sempre piaciuto era smanettare però con un fine ad esempio io suono da quando sono relativamente piccolo da quando ho 10-11 anni quindi fin da piccolo dovevo scaricare programmi per craccare programmi di editing per registrare ovviamente non avevo i soldi non avevo i soldi non avevo chiede ai miei genitori 300 euro per un programma quindi fin da da piccolo a scaricare e quello mi piaceva molto stavo per dire io ma Tox mi ha anticipato adesso pago tutto ovviamente però da piccolo sì e quindi quello di cui non mi era reso conto è che quello che mi piaceva era smanettare e costruire cose perché si è partito prima dallo smanettare poi mi sono reso conto che mi piaceva anche scrivermi dei piccoli programmini per fare delle cose nel mondo della musica e quindi quello che in realtà mi è piaciuto e mi ha mi ha fatto scattare l'idea che l'informatica fosse la scelta giusta e la facilità con cui si possono creare delle cose cioè l'idea che io anche perché io sono cresciuto in una città di provincia dove mi ricordo quando ad esempio volevo costruirmi un piccolo amplificatore e non c'erano i pezzi non c'erano negozi dove si potevano comprare i pezzi bisognava andare a ordinarli arrivavano e invece con la programmazione si faceva tutto subito non dovevo comprare niente bastava un computer potevo fare un sito potevo fare un forum potevo fare youtube c'era e questo mi ha sempre appassionato tanto la velocità la facilità con cui si potessero creare cose e questo poi diciamo crescendo si è tradotto in effettivamente voglio fare l'ingegnere informatico perché mi piace costruire cose in questa maniera e ho un aneddoto divertente a riguardo perché c'è stato un periodo che era un po' indeciso tra l'elettronica e l'informatica perché al Politecnico di Torino computer engineering electronic engineering sono molto simili e ricordo che eravamo a Shanghai e avevamo un corso di elettronica dove avevamo passato settimane per costruire un orologio digitale ma con la board enorme tutto complicato progettare un orologio digitale vado a uno dei mercati cinesi dopo l'esame e trovo una roba fatta benissimo grande così a 5 centesimi e lì mi sono detto ma no però l'ingegneria è bella il fatto però da loro è più divertente ma certo sì però mi sono detto invece con l'informatica con l'informatica posso fare delle cose che hanno un valore molto più alto che scalano diversamente che scalano mentre con l'elettronica faccio fatica e i pezzi e il laboratorio tutti i costi quindi insomma questo può rispondere alla domanda e l'altra parte proprio per questo non sono mai stato in realtà un genio da olimpiadi della matematica non l'ho mai fatto la professoressa non mi chiedeva neanche se volevo andarci quando ero al liceo chiedeva agli altri andavo relativamente bene era tipico della media dell'otto andavo meglio nelle materie umanistiche che in quelle scientifiche e poi meglio nelle materie umanistiche che in quelle scientifiche interessante c'era qualche passaggio hai detto che suonavi cosa suonavi o cosa suoni suono una chitarra 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 jazz soprattutto ok ok in realtà ho un lato molto forte nell'ambito più diciamo creativo umanistico che però mi sono reso conto che ingegneria e creatività lo stesso esattamente quello che mi sono reso conto più tardi secondo me c'è anche una grossa forse adesso è cambiato però quando io ero le superiori l'informatica era proprio si vendeva come questo mondo bianco e nero che piaceva solamente ai nerd era molto noiosa che in realtà non è così e me ne sono accorto un po' più avanti ricordo che la biografia di Steve Jobs mi fece capire un po' questa cosa cioè che costruire prodotti non è una roba da nerd ma c'è passione creatività visione lì mi sono reso anche conto di questo questo risponde alla domanda di Mr. Nocio dove hai avuto questa ambizione essendo sei riuscito in provincia sei immune alla mentalità provinciale forse è proprio sì questa era un po' un meme però ti faccio una domanda simile che io sono cresciuto in un ambiente molto provinciale nel senso sono di Roma ma è periferia in famiglia ho avuto pochi ispirazioni nel senso la mia famiglia non c'era manco un laureato quindi era così questo tu hai avuto un ambiente simile oppure comunque hai avuto ispirazione tra familiari o amici stretti o qualcosa ma in realtà un po' di ispirazione nella mia famiglia c'è perché di persone che hanno fatto l'università anche all'estero nella mia famiglia ci sono state e però credo che proprio il fatto di essere cresciuto in provincia mi ha fatto capire che era un posto nel quale mi sentivo un po' stretto e avevo voglia di uscire quindi fin da giovane avevo voglia di cercare di capire come insomma creare una realtà più adatta a me stesso e poi adesso l'ambizione si è creata negli anni cioè non è che sono partito a 15 anni dicendo vado a lavorare da Amazon cioè all'inizio la vera ambizione era quella di viaggiare quindi la cina è comunque già un progetto figo per un ventenne insomma sì lì era un'ambizione più di conoscere altre culture di viaggiare e di cogliere un'occasione quasi gratuita perché insomma ti davano una borsa di studio la vera domanda non era se andare o meno in Cina ma era perché non farlo beh insomma comunque a vent'anni avevi vent'anni prendere un anno e staccarti da non so magari avevi degli affetti avevi altre cose non è facile come scelta eh ma se non lo fai quando hai vent'anni good point e poi non sei più mosso praticamente no? l'anno dopo e poi si continua perché forse questa è la cosa bella dell'ambizione stimoli che insomma si creano se riesci a stare in questi posti dove sei intorno a persone che hanno anche stimoli ambizioni simili simili poi si può andare avanti e diciamo l'università negli Stati Uniti è stato un è stato un punto in cui avevo voluto la stai buttando così senza introdurla cosa è successo? sei laureato quindi torna in Italia sei laureato e poi magistrale? e poi mi sono laureato e diciamo che la la didattica italiana l'apprezzavo molto per l'aspetto teorico io il bagaglio culturale a livello di informatica dei tre anni del Politecnico me lo porto ancora molto dietro anche nella mia professione però avevo voglia di qualcosa di diverso e qualcosa che stimolasse un po' di più che spingesse un po' di più anche nel lato pratico e diciamo che gli Stati Uniti mi sembravano la miglior risposta per a questo tipo di desiderio oltre anche al fatto che sapevo che avere un master in un'università con un nome conosciuto mi avrebbe aperto delle porte a livello lavorativo ok e Cornell Cornell sì Cornell è stata avevo fatto richiesta a un paio di università negli Stati Uniti anche perché costava abbastanza fare richieste infatti mi ha richiesto come ti sei finanziato per l'università per fare per fare la richiesta la richiesta la richiesta costa eh sì per quello ne ho fatte tre non potevo farne tipo 20 perché sono tipo 100 euro a richiesta quanto? è 100 150 se non lo sbagli 100 euro a richiesta dai ok però vabbè hai fatto uno non sa mai se o si dice ma cioè sto esagerando è un po' italiano questa mentalità cioè per un ventenne c'è 300 500 euro per investire in questo qui sono tanti certo come dire è un investimento non lavorare cioè è ovvio ma a parte dopo si taccavano costa un bel po' vuoi fare il resto? costa un bel po' l'università negli Stati Uniti allora secondo me una mia ecco questa è una cosa che vorrei consigliare a chi si trova in una situazione come la mia cioè se uno non è come Endisi se uno non è un genio che diciamo ha magari un percorso abbastanza spianato per entrare in questi tipi di università e avere degli investimenti da istituti privati quello che per me ha funzionato è sempre cercare di fare delle cose che non erano proprio quello che volevano far tutti per esempio andare in Cina io sono riuscito a farlo nonostante non avessi la media del 30 o la media tipo il 27 perché in Cina non è che tantissimi volessero andarci negli Stati Uniti ho avuto la fortuna di trovare Cornell che aveva un nuovo programma di un campus a New York in città perché Cornell ha la sede principale a Itaca che sono tipo tre ore a nord di New York ha aperto questo campus in città per spingere il lato start-up della East Coast è un campus che si sono dibattute diverse università alla fine c'erano o Stanford o Cornell che avrebbero dovuto costruire un campus Cornell alla fine ha preso l'appalto e quindi è un campus di laurea magistrale dove ci sono ingegneri avvocati MBA di business e oltre alla parte didattica c'è un grosso percorso di cui possiamo parlarne se volete fatto per le start-up capire come fare start-up come uscire da Cornell e lavorare e fare una start-up come entrare in quel mondo bello sembra affascinante molto molto bello fatto molto bene il vantaggio anche che era un programma nuovo e quindi avevano voglia di spingere un po' all'estero e c'era c'erano delle belle borse di studio per gli studenti che arrivavano dall'estero rispetto a per gli anni cosa che magari se uno fa richiesta ad Harvard o a Stanford dove c'è la competizione in quel caso lì è di un altro livello quindi è andata bene che ho preso delle buone borse di studio lì che mi hanno permesso di pagare praticamente la metà di quanto costa un corso lì era un anno quindi anche quello rispetto a tutti cosa è un titolo di studio intero oppure un pezzetto si chiama si chiama Master of Engineering esiste è abbastanza comune soprattutto negli Stati Uniti proprio per via del costo e quello che taglia è la ricerca cioè non si fa una tesi di ricerca perché alla fine quando si fa il Master of Science di due anni un buon sei mesi sono passati a fare ricerca questo qua è un Master che diciamo è fatto per chi vuole andare a lavorare dopo e non si un anno americano significano due trimestri essenzialmente quindi vuol dire che o c'è molto molto serrato il ritmo molto orientato al pratico sono curioso allora sì è difficile paragonare però è molto orientato al pratico quindi questa è una cosa che manca molto all'Italia cioè si studia per cosa quindi tu studi il C studi networks e queste cose ma non sai mai bene perché non vedi la visione grande di queste tecnologie negli Stati Uniti invece ti dicono tu devi costruire questo e sta a te capire come farlo e quindi te da solo capisci che effettivamente devi imparare il Python o devi imparare altre cose e questo secondo me dà molto senso perché parti da un problema e ti dai la risposta da solo capisci il valore di quello che stai studiando mentre quando ti viene data solo una risposta e forzatamente la devi studiare magari ogni tanto anche a memoria cioè perde un po' di valore ok interessante sei molto americana come cosa molto americana e poi queste università il fatto che sono comunque delle università rinomate Cornell è una grossa università negli Stati Uniti hanno dei bellissimi contatti con le aziende quindi spesso le aziende vengono all'interno dell'azienda ti spiegano quello che fanno tutti i corsi sono sempre contestualizzati a magari un lavoro che fa l'azienda che cosa stanno facendo e quindi diciamo che è molto bello cioè come esperienza veramente bella se uno ha questa voglia qua quanto te è costata questa esperienza? sono curioso un anno di Cornell in questo programma magari metà aiutato da Borsa di Studio parliamo di qualche decina di migliaia di euro oppure no? sì sì se non sbaglio quando sono andato io il prezzo pieno erano 50.000 dollari all'anno per un anno e di tuition solo quindi senza neanche alloggio senza nient'altro? senza nient'altro no wow sì senza nient'altro 50.000 all'anno però non ho pagati la metà sì ok diciamo che l'aspetto finanziario è molto difficile secondo me da valutare perché se visto come un investimento puramente finanziario penso sia l'investimento più grande che avrei potuto fare nella mia vita come ritorno economico ora non so se si applica sempre e anche il c'è un po' di survival bias qui però comunque parliamo di un anno non il classico percorso da quattro anni e con borsa di studio quindi costo dimezzato sicuramente è molto paretiana come cosa nel senso che hai preso l'80% dei benefit pagando il 10% praticamente sì sì ed è comunque è una cosa che è molto difficile da replicare in altra maniera avere questo nome sul curriculum questo tipo di competenze questo tipo di contatti questo tipo di mentalità perché comunque ti insegna a pensare soprattutto per un europeo in maniera diversa e questa è una cosa che mi porto ancora dietro e mi porterò penso sempre dietro con me quindi è è un grosso cambiamento che si fa da giovane diciamo una grossa opportunità che si fa da giovane che secondo me va avanti per per tanto tempo c'è chi chiede il buon nono Tom grande nono Tom domanda studia come si fa a ottenere un visto per entrare e studiare negli USA e mica è difficilissimo ottenerlo anche perché forse era già epoca no non siamo ancora in zona covid ma siamo verso fine anni dieci no? Sì siamo nel 2017 sono andato negli Stati Uniti nel 2018 quindi sì pre-covid Trump però c'era che di solito è un po' la variabile per i visti chi è il presidente e cosa succede a livello di politica estera per il visto da studente di nuovo queste cose cambiano però non c'è alcun problema se tu sei la difficoltà è essere accettato in università e poi pagarla se non si ha una borsa di studio però il visto poi viene dato è molto difficile avere il visto lavorativo dopo ok ok bisogna termine per cui sono un po' più easy se qui si ti ha detto c'è un media un voto minimo no non no di per sé no hanno i loro sistemi di valutazione allora ci sono ci sono dei requisiti ci sono degli esami standardizzati tipici americani da dare quello per il master si chiama GRE che è un esame di logica comprensione verbale si studia si passa insomma non è che si passa bisogna prendere un putteggio alto effettivamente per quanto riguarda i voti è molto difficile perché ad esempio negli Stati Uniti è molto facile avere il massimo dei voti rispetto ad esempio all'università di ingegneria in Italia in Italia i 30 non li danno facilmente soprattutto sui tre anni quello che secondo me fa tanto negli Stati Uniti è un po' il percorso e la visione io credo che il fatto di essere andato in Cina di aver studiato in inglese tutte queste cose qua abbiano aiutato a raccontare una storia soprattutto a un campus che aveva voglia di creare persone per il mondo delle start up rispondeva un po' al bisogno di quello che cercavano secondo me è lì dove sta la capacità di andare a trovare queste opportunità come riuscire a raccontare una narrativa per se stessi che effettivamente risponda ai bisogni del campus o dell'università in cui si sta cercando di andare parli di start up ma poi c'è stata una fase anche di non so semi incubatore oppure un tentativo di creare non lo so di invogliare qualcuno a fare start up oppure non lo so c'è stata una fase di effettivo incentivo assolutamente sì il programma è fortissimo da questo punto di vista perché c'è un semestre dove una una materia quindi un esame è dedicato a team che creano effettivamente una start up ogni due settimane vengono degli investitori e si presenta davanti a tutti gli investitori la propria idea che sia un feedback reale questa materia tra l'altro è insegnata da un grossissimo investitore di New York e a fine semestre per quelli che hanno intenzione di no si chiama David Tisch per quelli che hanno intenzione di di continuare a fare spin out c'è una competizione e le quattro migliori aziende ricevono funding e parecchio supporto dall'ufficio a advisor e un sacco di cose quindi diventa effettivamente un incubatore un acceleratore a te a te interessava questo qui oppure in realtà no volevi tornare o fare altro o domani a te interessava le follow up hai creato un bel network hai conosciuto gente interessante hai cercato co-founder oppure non faceva per te il mondo startup già a 21 anni no no a me interessava un sacco infatti io a parte questa parentesi di amazon sono sempre stato molto di più nelle startup che che ora ci arriviamo mi interessava molto il problema è stato il visto è molto difficile se sei co-fondatore di una startup avere un visto lavorativo ci sono delle maniere però avevo 21 anni 22 anni e di prendermi quel rischio anche a livello no in realtà no non avevo i soldi non avevo cioè avevo dei compagni che facevano i founder e avevano dei avanti lavorato 5-6 anni io partivo proprio da zero non avevo mai lavorato un giorno nella mia vita e non potevo chiedere ai miei genitori di mantenermi a New York oltre la laurea quindi non era proprio molto difficile immaginare di fare una cosa del genere vedo un po' di commenti interessanti un commento volevo portartelo perché è molto interessante repudi che non saresti potuto essere dove sei se avessi scelto di fare magistrale al polito questo è quello che giustamente tu puntualizzavi che è il survivor bias ti direi di no però la realtà è sì perché vedo persone che sono in situazioni simili alle mie e non hanno fatto necessariamente queste cose la verità è che però se non avessi si può farlo magistrare al polito bisogna studiare un po' meglio come riuscire ad andare da qualche altra parte dopo e bisogna capire quali sono i propri punti di forza se uno è stato sempre al politetnico di Torino e non ha la laurea a 30 rode come migliore della classe quali sono effettivamente i tuoi punti di forza per poter raggiungere magari certi posti un po' più selettivi o più competitivi se uno riesce a trovare questo angolo allora secondo me si può fare per me è stato il viaggiare essere un po' intraprendente con esperienza in Cina di un anno in America di un anno nel curriculum eri abbastanza appetibile immagino aiuta sì devo dire che poi quando si va a New York diventa abbastanza la normalità della gente che c'è intorno a te un curriculum del genere però dopo la vita a New York come è stato visto un anno a New York Manhattan o dove stavi? io in realtà ho vissuto sei anni a New York ah ok sì sì perché dopo la laurea sono rimasto lì poi per sei anni a lavorare quindi il visto è stato difficile ma l'hai trovato? sì si può raccontare è stato abbastanza complessa come cosa perché bisogna trovare delle aziende che lo sponsorizzano le start up tendenzialmente non sono il posto ideale perché non hanno avvocati non hanno il tempo non hanno quindi è molto difficile far compacciare le due cose ho vissuto per sei anni a New York ho vissuto nel Queens quando andavo all'università perché dovevo risparmiare il più possibile su adesso poi nel Queens immagino che non è che sia proprio economico economico io quando sono andato a New York magari quando c'era anche tu perché tra il 2014 e il 2019 quasi ogni anno sono andato a New York per qualche Google e lavoravo molto con team a New York sia quando ero in Google Maps c'era team fortissimo al Chelsea Market che quando stavo in shopping quindi il Queens già era molto riqualificato cioè quando sono venuto io era l'epoca in cui anche al di là del Bridge come si chiama Brooklyn si Brooklyn in parte quella però sotto non so come si chiama però il Queens era già abbastanza cominciava a essere un po' chic la gente si muoveva beh dipende che parti diciamo forse tu dici la parte di Williamsburg di Brooklyn e beh lì sì lì costa molto perché è molto ambito nel Queens le zone tipo Sunnyside costa comunque tanto non è come un affitto a Cuneo o o a Torino però pagavo adesso non mi ricordo mi pare qualcosa come 700 al mese 800 al mese una stanza quindi un sacco di soldi cercavo di risparmiare tipo andavo a scuola in bici ero l'unico grazie in bici in bici in New York sì eh bisognava bisognava già avevo la grande opportunità che si erano trovati i soldi per andare a studiare chiedendo un po' di qua un po' ai nonni un po' ai genitori ero molto consapevole di questa cosa quindi ho fatto molta attenzione ai costi quindi sì ho vissuto un anno nel Queens e poi sono andato a vivere a Manhattan quando ho iniziato ad avere uno stipendio ho vissuto sì poi sempre a Manhattan quindi vediamo un po' una volta finito il percorso in Cornell che succede? finito il percorso Cornell succede che avevo veramente voglia di fare startup e quindi sono andato in una super early stage startup dove eravamo con me in quattro il vantaggio è che non era un cofondatore quindi era più facile avere un visto quando non sei un cofondatore e sei un impiegato era una startup che aveva già avuto un po' di funding quindi era in una fase più semplice per poterlo fare almeno teoricamente poi è stato un problema e lì è stato molto interessante perché era una startup che si occupava il mio primo lavoro effettivamente cercavamo di costruire Slack per l'università quindi un prodotto che era che permetteva agli studenti per esempio di chattare usando Latex di fare videoconferenze con perché è un grosso problema degli studenti è che quando si devono passare i compiti o queste cose com'è? Interessante per passarsi le formule sì è un casino ed era una delle fiche più richieste che piaceva di più ok chat con sintassi Latex ok interessante quindi era una piattaforma di forum Omiodoxi GroupMe Overleaf cioè tutti sì beh Overleaf fai solo quello il punto era di avere una piattaforma dove avevi tutto quanto quindi potevi andare a fare le office hours col professore e li facevi in real time potevi postare delle domande e rispondere potevi postare in Latex e mandare un messaggio in DM con Latex quindi era era tutto quanto ah Overleaf anche la chat adesso ok non lo sapevo ai tempi no mi pare proprio di no quindi ed è stato bello perché era proprio la classica start up americana no quindi in quattro in una stanza super crescita siamo arrivati a centomila utenti in tre mesi wow si crashava bisognava non c'erano le competenze eravano tutti molto giovani tanto prodotto quindi capire come iterare e fare questa cosa che piacesse quindi molto bello si lavorava tantissimo ma per chiederti se ti lavoravi you worked your ass off sì 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 lavorava tanto e anche equity avevi eri comunque anche socio a voi equity sì a voi equity e quindi anche questo ovviamente spinge perché si ha voglia di contribuire poi era bello perché eravamo il team insieme eravamo in pochi proprio la classica diciamo familiolo il gruppo di amici che lavora però non c'è una bella non c'è una definizione chiara tra il lavoro e la vita no? in quel momento lì c'è la vita da youtuber sì un tipo però facendo cose vere invece che facendo il cazzone qui sono davanti alla camera e poi prima di entrare sono un po' curioso anche dei dettagli nel senso che tu quindi mentre stavi studiando a Cornell poco prima che finisse il tuo tu avevi quando sei partito avevi una data di scadenza no? tu dici parto il giorno X fra un anno torno a casa se non trovo niente quanto quanto prima hai iniziato a cercare l'opportunità perché non immagino non essere arrivato a fine percorso di studi hai fatto ok adesso mando curriculum perché poi scadeva tutto devi continuare oppure sei rimasto del tempo no 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 allora questo è un buon punto perché io sono arrivato con una mentalità ancora molto italiana dove il lavoro si trova effettivamente si finisce l'università poi con calma si trova il lavoro si mancano il curriculum e tutto arrivo e vedo che la gente a novembre settembre quando iniziava erano già a fare l'ITCOD e io non sapevo neanche cosa fosse l'ITCOD in quel momento lì e poi ho iniziato a capire che bisognava svegliarsi e mentre si studiava bisognava anche preparare con il lavoro quindi anche perché spesso adesso un percorso da un anno è molto diverso immagino un percorso pluriannale d'estate si va a fare l'internship mica stai anche a tanti però sapevo inizio a questo concetto perché ti sei lavoriato per l'estate successiva hai finito il percorso quindi non c'era manco modo di fare un'internship in mezzo quindi come è stato il processo di ricerca di lavoro mentre studiavi beh è stato difficile è stato difficile perché non avevo esperienza lavorativa avevo fatto un'internship a Torino che però insomma era in un centro di ricerca quindi non si traduceva tanto in una cosa di molto valore per questo tipo di start up o aziende in cui cercavo innanzitutto ho capito che l'ITCOD non era facile quindi dovevo prepararmi cioè c'era gente che lo faceva da anni io neanche sapevo cosa fosse nonostante avessi studiato ingegneria informatica era difficile quindi c'è stata preparazione ho mandato tantissimi curriculum in più quando si ha bisogno di un visto è più difficile perché se un'azienda americana può prendere una persona con la green card o un visto o una cittadinanza tendono a prendere queste persone quindi avevo mandato 50-60 curriculum nel giro di di quei mesi lì e poi in realtà è stato interessante perché alla fine c'è stata questa start up con cui mi son trovato molto bene gli son piaciuto per via delle esperienze è un progetto che stavo facendo con l'intelligenza artificiale a Cornell sull'Alzheimer e natural language processing erano rimasti molto colpiti da questa cosa e quindi sono andati molto bene i colloqui con loro nel frattempo stavo facendo anche i colloqui con Google ero arrivato all'onside di Google ma avevo la scadenza per questa start up e ho detto questo mi danno il visto preferisco accettare questo poi mi sembrava questa cosa era uscito dall'università la start up avevo 20 anni Google sapevo che sarebbe rimasta dove era forse per un po' per un po' almeno il tempo è stata questa la scelta non so se la rifarei ma al tempo avevo voglia di fare questo tipo di percorso beh c'era una certezza a parte comunque continuare i colloqui se andava bene potevi comunque accettare lo stesso immagino però quindi questa start up non era affatto cioè alla fine Cornell non va messo veramente in contatto con troppe aziende sì sì mi sembra uno scam sto master di un anno a Cornell mi sembra così è una provocazione mi sembra pensate per gli stranieri vengono qua ci pagano un sacco di soldi e è un campus sperimentale che mettiamo da un'altra parte non è quello principale selezioniamo quelli che non vengono presi che non hanno voti altissimi che vanno negli altri corsi e poi dopo li lasciamo per strada no? l'ho letta però malissimo? secondo me malissimo no però ci sono un paio di punti secondo me da chiarire il primo che non è per internazionali cioè gli internazionali sono circa il 20% degli studenti semplicemente stavano cercando delle persone di spicco nel mondo internazionale per investire anche perché secondo me a livello legale devono avere una quota di studenti internazionali a prescindere c'è questa parte qua il fatto che sia un programma di un anno è una cosa abbastanza comune negli Stati Uniti so che UC Berkeley anche ce l'ha molte università in realtà hanno master di un anno università con nomi seri la terza quindi il fatto che sia di un anno considera che là negli Stati Uniti il bachelor è di 4 quindi per la maggior parte delle persone fanno 4 più 1 è uguale al nostro 3 più 2 semplicemente io me ne sono saltato uno mischiando i due sistemi ok quindi e poi in realtà non so come cosa ho detto però ci hanno messo in contatto con tantissime startup tant'è che la startup in cui sono andato a lavorare l'ho conosciuta tramite la scuola erano venuti nel campus ok era la mia falsa percezione ok no no c'era c'era tanto in realtà secondo me soprattutto per uno studente straniero che vuole andare a studiare negli Stati Uniti tu in un anno hai il 90% di quello che vuoi dagli Stati Uniti cioè andare a fare ricerca negli Stati Uniti se però passi tre quarti dell'anno a fare l'itcode a mandare i colloqui sembra quasi non dico lo scafista che ti porta sulle coste americane ah no però aspetta no 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 le lezioni erano normali io ero pieno dal mattino alla sera di natural language processing sistemi distribuiti però molto spesso ok però di sera e di notte devo fare l'itcode c'è qualcuno che dice che ti conosco l'Orcan 95 ok non so se è tuo amico vabbè non riconosco dal nickname ok quindi vediamo un po' inizio a lavorare per questa startup inizio a lavorare per questa startup e devo dire anche grazie al master che ho fatto avevo delle competenze pratiche perché io arrivavo da Torino e sapevo il C meno male che ho fatto JavaScript e Python all'università perché cioè sarei stato in grado di spiegare la memoria e tutto quanto ma non sarei stato in grado di costruire un backhand perché sapevo il C sapevo un po' di Java ma non non sapevo quella parte finale di conoscenze pratiche per costruire un sistema reale sapevo cose molto più complesse ma non pratico sembra la mia storia sembra quindi quello c'è tanto da ringraziare anche per per quello poi il C mi è servito più avanti però non mi hanno fatto trovare un lavoro necessariamente quindi molto bello la startup è stato un anno grande crescita super veloce a livello di iterazione di definizione del prodotto molto full stack che si va dal backhand fino alla UI e la UX perché non ci sono i designer perché non c'è un product manager tutti fanno tutto bellissimo si scopre che alla fine il visto non riescono a farmelo mi avevano detto che lo avrebbero fatto ma mancano tipo un mese che chiude la deadline per fare i visti il problema qual è? che quando tu passi da un visto studentesco al visto lavorativo è una lotteria quindi hai tre anni per provare questa lotteria e se dopo tre anni tu non non entri te ne devi andare e io non avevo voglia di bruciarmi il primo anno e quindi ho iniziato a cercare un altro lavoro in un'azienda un po' più grande dove dove sapevo che avrebbero fatto il mio visto perché ne avevano già fatti altri e quindi di lì mi sono spostato a un'azienda di circa 200-300 persone se non sbaglio che è stata una bellissima esperienza nella quale poi ho lavorato tre anni posso chiederti il primo stipendio americano di che importi parliamo che range più o meno e come hai fatto l'upgrade nella tua vita una volta preso cioè adesso ho preso uno stipendio non sto più in quinta in bicicletta ma mi metto restituisco i soldi agli zii che mi hanno prestato per studiare non so com'è stata la gestione economica del wow prendo uno stipendio vero in America ma allora io sono cresciuto in un ambiente molto frugale diciamo rispetto a quello che ho visto dagli americani forse non frugale rispetto all'Italia che è abbastanza comune gli italiani sono molto risparmiatori rispetto agli americani quindi uno stipendio che se non sbaglio a New York il primo anno con la start up era 90k ok e non erano tanti perché comunque un affitto New York sono andato io a Manhattan dove? con Quelini ero il primo anno tra la dove ero 41 e terza no 51 e terza quindi è abbastanza centrale ok fino a Columbus all'altra parte ok quindi anche comunque per essere Manhattan non è una zona non è ad esempio il Chelsea Marche non è la Upper East Side sei sotto perché sotto a cinque no no sotto sotto molto diverso tra sono andato con Conquilino e pagavo circa 1200 1300 al mese poi con la start up non c'era l'assicurazione sanitaria quindi dovevo pagarmela io cavolo ti dico quasi barbone di Dio ma con lo stipendio a Manhattan con anche assicurazione sanitaria ancora è riforzato ad essere frugale dai sì quindi la bici la usavo ancora quindi non è spesso di usarla però sì insomma il fatto di poter guadagnare ha cambiato la psicologia del poter andare ogni tanto a mangiare fuori di uscire quando ero all'università non uscivo mai perché avevo dei compagni di classe che spendevano un sacco di soldi e io non potevo te l'hanno fatto le H1B almeno nella seconda azienda sei riuscito a prenderlo? sono stato molto fortunato perché e quello che dicono qua è vera come cosa sono stato molto fortunato perché sono andato in questa azienda e mi hanno messo nella lotteria e sono ho preso il visto al primo colpo spiega un po' cosa è questa lotteria perché nella start up avevi meno chance ah sì perché quando si fa questo visto che è l'H1B bisogna mandare un plico di documenti è un'application e ha un costo che tendenzialmente si fa tramite degli avvocati mamma mia e lo deve fare se non lo fa l'azienda l'azienda di sponsorizio dovrebbe farlo l'azienda il problema è che quando è una start up con quattro impiegati che ha un sacco di problemi da fare funding il CEO non ha effettivamente il tempo e l'energia in certi casi sì nel mio caso non ce l'aveva e te lo finanziati diciamo 5k applica per conto tuo non è anche quello devi farlo a costo tuo ma comunque hai bisogno che l'azienda firmi delle cose quindi lui dovrebbe creare dei documenti non potevo fare tutto io e onestamente non ne avevo voglia cioè sembrava tutto così a rischio che qualcosa andasse storico però vuol dire che immagino anche il lavoro non ti stava piacendo un po' di meno perché se no se quel lavoro era fighissimo uno se la gioca ancora un paio di danni o se c'era possibilità di exit se sei uno dei primi impiegati c'era anche una scelta sì è vero c'è da dire che mi sono reso un po' conto che non credevo più così tanto nel prodotto non stava crescendo come immaginavo sarebbe cresciuta ero anche abbastanza stanco perché è stato un anno veramente intenso di lavoro nel weekend ho voglia di passare a qualcosa di diverso e quindi Tanvir ci parla anche della green card tu hai ottenuto anche la green card dopo sei anni no mi avevano avevano iniziato a farmela e poi mi sono andato che devi pagare continui a pagare tassi in america per il resto della vita non so ancora paghi qualcosa perché è un po' infame no è un casino sì sì poi anche a livello di investimenti sei la green card è un casino se sei in europa la svizzera la svizzera con america ha questo problema è fantastica in una direzione ma è pessima quella opposta ma ok entri nella seconda azienda che azienda cosa fanno altra start up scale up oppure azienda più solida sana normale azienda più solida sana comunque non così grande e di ingegneri eravamo circa una cinquantina se non sbaglio quindi non big tech neanche simile a big tech era un prodotto fighissimo perché quello che facevamo la visione dell'azienda era di prendere informazioni lavoravamo con i data center o il cloud di grosse aziende private o pubbliche analizzavamo tutte le loro informazioni e cercavamo di trovare la configurazione ideale delle loro risorse ogni dieci minuti detta meglio quando tu sei un'azienda come Microsoft o Bank of America e hai un data center enorme con un sacco di virtual machine sopra quante virtual machine o quanti server devi avere accesi in questo momento per far sì che riesci a rispondere ai tuoi bisogni ma anche senza spendere troppo perché tante cose magari non devono è quasi un problema di DevOps load balancing quando ho fatto l'SRI in Google più o meno queste cose qua erano l'ordine del giorno esatto la visione dell'azienda però è che non è un problema di DevOps perché non è un problema umano è una soluzione con talmente tante dimensioni che è un problema di ottimizzazione e avevano brevettato un sistema di utilizzare principi microeconomici di domanda e offerta per ottimizzare questa cosa continuamente quindi per trovare la configurazione ideale di quante risorse hai bisogno di avere accese diciamo per rispondere ai tuoi bisogni ok e sono andato lì come ingegnere nel team platform quindi lì è dove veramente mi sono formato tanto sulla questione di sistemi distribuiti Kubernetes era molto massiccio come prodotto perché analizzavamo veramente tanti dati bisognava distribuirli bisognava fare le cose in maniera reliable e consistente quindi tanti problemi interessanti a cui pensare in un'azienda in cui c'era spazio anche per crescere e insomma negli anni di prendere più responsabilità figo lì sei rimasto molto a lungo per quello che sono no? sì è quello in cui sono rimasto di più sono stato 4 anni se non sbaglio forse un po' meno di 4 anni perché è stata comprata da IBM dopo 3 anni qualcosa è stata comprata da IBM IBM si occupa tanto di questo tipo di problemi soprattutto quando si tratta di sistemi on-prem o hybrid quindi grosse aziende che hanno i data center hanno un po' di AWS un po' di GCP come ottimizziamo tutto quanto per evitare di spendere troppo IBM nonostante non si è conosciuta tanto per questo è molto forte in questo settore quindi è stata comprata però ho deciso di volermi rispostare in una start-up perché non avevo troppa voglia di rimanere tanto a IBM ma lì durante il percorso diciamo questo secondo lavoro è rimasto a lungo è cambiato anche dal punto di vista di retribuzione c'era un'azienda più grande che pagava meglio hai fatto più network hai incontrato gente in gamba sì è stata un'azienda è stata un trampolino lì ho fatto proprio il salto da junior a senior secondo dei miei standard personali perché poi è una cosa molto da azienda azienda però mentre nella start-up è stato diciamo il giro di prova nel costruire il più veloce possibile una buona mentalità agile a partire dal cliente iterare anche se le cose non sono fatte benissimo non importa lì ho imparato veramente come si fa ingegneria in modo corretto sì ho imparato come si fa ingegnere in modo corretto come si sta in un'azienda più grande come si lavora con altri team come si utilizzano tecnologie open source usare kubernetes on prem non è facile come andare su AWS avere tutto on premise e si intende cloud o stato localmente esatto diciamo dove non si ha tutte queste possibilità che sia quando si va con un provider come magari google cloud o AWS dove si premono qualche pulsante e si ha un sacco di cose diciamo pronte quando si deve fare per sé più complesso what questa me l'ho dimenticata i bianoi dicono che è Red Hat che ha comprato i bm per quanto a livello di influenza sia un po' il contrario però si ok ok l'auto compensation se ti posso chiedere se puoi si arriva a six digits spero si 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 lì si lì si lì si è cresciuto poi sono stato più tempo quindi ci sono stati degli aumenti comunque non erano stipendi colossali come quelli che si sentono adesso magari di big tech negli Stati Uniti perché non erano ancora così alti come lo sono stati negli ultimi tre quattro anni però lì vivevo meglio lì sono andato a vivere da solo in un monolocale però sono andato a vivere da solo potevo permettermelo e quindi si stava meglio niente equity sono anche curioso del fatto di sapere come hai gestito le finanze nel senso che hai cominciato a vedere qualche soldo forse hai anche fatto qualche risparmio investimento per il futuro sei stato forzato ad aprire anche account tipo 401k o altri pension plan che tattavano i sparsi in giro per il mondo i fondi pensioni sì ma allora fortunatamente ho iniziato a investire quando ho iniziato a lavorare in questa azienda qua questa è una delle altre grandi fortune che ho avuto in questo master è di conoscere persone che già investivano io arrivavo cadevo un po' dall'albero cosa sono gli investimenti mai sentito in Italia sapevo che c'era quello della banca che gli dava i soldi e lui insomma ti diceva dopo qualche anno se andava bene andava male ma arrivavo da questa mentalità qua e lì ho scoperto il mondo degli investimenti e mi sono messo a diciamo sì a studiare perché comunque sono uno che all'inizio anche solo comprare degli etf mi metteva del timore perché non conoscevo nessuno in Italia che lo facevano non capivo quindi ho preso il tempo per familiarizzarmi con gli strumenti e ho iniziato a investire fin dal primo anno a Turbonomics questa azienda la seconda azienda Turbonomics sì per quanto riguarda 401k cioè quindi la pensione americana lo faccia il crash del covid appena iniziato a investire hai fatto boh paura di questi etf mettiamo due soldi boom crash covid se non parlo è stato dal 2019 il 2022 sì sì quindi un po' le brezze so che posso resistere almeno a quello diciamo che si è ripreso abbastanza velocemente quindi non è stato anni e anni però sì dicevi 401k o la pensionista 401k sì è sempre stato un po' difficile capire quanto utilizzarlo perché non sapevo veramente dove sarei stato mentre gli investimenti il fatto di poterli gestire se sapevo che trasferendomi in un paese diverso avrei potuto gestire lo spostarli una pensione privata americana che viene utilizzata per una questione fiscale soprattutto l'azienda non fa il match il match è la parte fiscale insomma sono e dipende quanto fanno di match perché appunto certe volte non è così alto nel mio caso non era altissimo quindi la fiscalità che ne so io a 57 anni o non ricordo quanto fosse l'età sì 59 eh 59 quello l'ho caricato meno rispetto agli investimenti personali ok per una domanda interessante di Mr. Nosho che oggi è molto attivo quindi se più della filosofia prima startup e poi eventualmente big tech è una scelta che consiglieresti o l'hai fatto per intraprendenza bellissima domanda bella domanda eh sì ci penso spesso è molto difficile allora da un certo punto di vista secondo me c'è un grande valore a fare a fare questa cosa qua perché ti permette veramente di capire che cosa vuol dire creare un prodotto quando sei una big tech rischi veramente di perderti a creare progetti a perderti in politiche in grandi processi in una startup vedi veramente che cosa vuol dire fare un prodotto secondo me è meglio entrare in una startup early stage dove magari c'è un cofondatore che ha già qualche esperienza lavorativa e sa come gestire un team fondare una startup senza esperienza lavorativa secondo me è molto difficile anche a livello soprattutto dal lato umano cioè come fai a gestire delle persone ad affrontare delle difficoltà in un team però l'ipotesi fondare startup da un laureato era però anche esclusa da questa dicotomia c'era più che altro joinare una startup cioè ambire a fare l'esperienza startup invece che big tech ok come si cresce tanto più velocemente in una startup ok interessante cioè un po' più avvocato di vai in un mondo grosso fai soldi fai nome fai curriculum conosci persone interessanti impari tecnologie cutting edge anche se poi l'ambiente non è delle volte così stimolante poi magari se è più se è più appetibile se è più però dipende dipende è molto soggettivo se qualcuno ha la fame agli occhi della tigre da neolo reato ben venga ben venga sì sì c'è quello e c'è effettivamente a livello finanziario la cosa che la grossa difficoltà sta nel la startup sei molto più dipendente dalla startup cioè la domanda vera dovrebbe essere è meglio andare in una bella startup o big tech chiaramente in una bella startup una startup problematica no ma non puoi saperlo a prescindere quindi c'è molto più molto più rischio in questo caso big tech bene o male big tech sai cosa aspettarti startup è veramente un po' succedi tu c'hai una startup ciofeghissime da super solide chiaro esattamente perché si parla di bmcloud se lavori in AWS sei in ritardo appunto visto che sei in ritardo non ti non ti rispondiamo poi ti chiami AS Music la musica qui non ci interessa tu cosa hai fatto dopo questa esperienza dopo questa esperienza quindi a ibm dopo che è stato comprato avevo di nuovo un compagno di classe a cornello che ha fondato un'azienda una startup che mi sembrava un'idea fighissima e mi aveva chiesto di andare e essere il primo ingegnere e costruire un team di ingegneri con lui e secondo me questo è una cosa interessante da discutere l'idea era quella di creare la prima piattaforma di investimento e di mercato per i diritti musicali appunto sarà il meme su AS Music sì esattamente andiamo in quella direzione giusto per dare contesto i diritti musicali sono quell'entità diciamo legale che rappresenta il profitto associato a un brano e permettono al detentore del brano quindi dei diritti musicali di essere pagato una commissione tutte le volte che quel brano viene fatto suonare in radio al teatro al cinema al supermercato quindi quando parliamo di canzoni grandi tipo Taylor Swift stiamo parlando di milioni all'anno di diritti musicali ad oggi questi diritti musicali sono trattati come delle asset class da grandi fondi di investimento Blackrock ha comprato grandi cataloghi di diritti musicali Michael Jackson ha comprato quelli dei Beatles e hanno litigato riguardo questa cosa esiste Justin Bieber ha venduto tanti dei suoi diritti musicali a fondi di investimento chiaramente speculativi non è l'S&P 500 però c'è un cash flow sottostante quindi speculativo fino a un certo punto tu stai comprando qualcosa e comunque c'è un cash flow c'è da fare un po' di value investing per capire quanto fra dieci anni verrà ascoltato Justin Bieber certo esattamente sì però ci sono anche degli aspetti speculativi interessanti come per esempio brani degli anni 70 che riemergono oggi grazie a una serie tv di Netflix e quindi fanno milioni che non hanno mai visto prima e poi ci sono anche mi sta parlando del cervello su come possa essere prezzato come si possa dare un prezzo stimando i futuri cash flow figo non mi piace l'ultimo caso che è interessante quando ad esempio si guardano i profitti di All I Want For Christmas di Mariah Carey tu parti a novembre arrivi fino a inizio metà gennaio di ogni anno salgono e poi sono costanti tutto l'anno ed è interessante come aspetto finanziario si può fare timing del mercato si può shortare Mariah Carey al 23 dicembre esatto esattamente quindi l'idea era quella di dire ok sappiamo che sono degli asset finanziari è provata questa cosa sul mercato però quello che non esiste è ancora la possibilità ai retail investor di accedere a questo mercato perché ovviamente sono venduti come cataloghi interi che costano milioni e milioni insomma le persone normali diciamo non possono accedere a questo tipo di mercato di asset tokenization cioè il tipo dimmi c'era diventato pure la blockchain o no 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 se no non sarei andato eravamo siamo stati i primi quindi il prodotto cos'era la complessità era che bisognava creare un broker dealer perché non esiste una piattaforma di investimento per questo tipo di asset e anche un mercato tipo un Nasdaq dove si scambiano questi questi leggermente ambizioso come progetto si è ambizioso si è ambizioso quindi stavate creando il tipo l'exchange l'exchange per i diritti musicali si esatto la grossa difficoltà era che noi volevamo fare tutto legale legalizzato niente blockchain insomma non token che non hanno nessun corrispettivo sottostante sia stati i primi negli Stati Uniti avere la l'approval da Finra che è l'ente per protezione dei consumatori come piattaforma di investimento per i diritti musicali e siamo stati i primi approvati dalla SEC quindi la SEC per essere un marketplace di diritti musicali quindi il flow era che gli artisti quando volevano vendere i loro diritti musicali facevano un IPO tramite la nostra piattaforma quindi si faceva il marketing si faceva wow quindi uscivano con tipo n quote n shares e poi c'era un secondo secondario esattamente come una stock esattamente anche la dinamica per cui il prezzo e la quantità delle shares si faceva con una market maker deve essere una persona neutrale perché chiaramente la piattaforma e l'artista hanno due incentivi diversi la piattaforma vuole vendere di più per i consumatori l'artista vuole guadagnare di più quindi ci vuole se si è diciamo legali bisogna farselo fare tramite un terzo la valutazione ok e quindi si faceva questa idea interessantissima ma immagino che se non sento che hai esploso e tu hai cambiato lavoro non ha funzionato eh sì non ha funzionato potremmo anche poi possiamo parlare è un mercato difficile gli artisti non hanno aderito cosa è andato male non è andato storto allora ci sono state ci sono state diverse cose che sono andate male e siamo stati anche sfortunati la prima grossa cosa è che noi avevamo fatto un giro di investimento da 7 milioni in cui ci sarebbero dovuti arrivare 3 milioni e mezzo un primo anno e 3 milioni e mezzo secondo anno l'azienda insomma il fondo che doveva investire che ci stava investendo è andato in bancarotta quindi un po' da un giorno all'altro ci siamo ritrovati senza 3 milioni e mezzo che ci sarebbero dovuti arrivare oh cavolo questo non ha aiutato una bella botta la seconda cosa è stata il fatto che c'era un singolo investitore scusa c'era un singolo investitore era un sì un fondo ok ok errore startup tutto il mondo ci vuole un lead investor ma deve guidare non più dell'X% però 7 milioni in America è un pre-seed a momenti però sì l'ideale è che non sia singolo investitore se no accade una cosa del genere stai zampe all'aria esattamente sì e poi c'è stato anche il fatto che siccome noi eravamo insomma eravamo approvati nonostante non avessimo dei clienti dovevamo avere in banca 3 milioni di dollari tutto in qualsiasi momento proprio per essere liquidi 3 milioni e mezzo di finanziamento e 3 devono stare fermi in banca no perché in realtà quei 3 milioni sono arrivati da altri dopo non avevamo un lead investor ma siamo riusciti siamo riusciti a trovare altri ma il problema qual è che consumavamo tanti soldi cioè questa cosa di dover avere dei soldi fermi in banca comunque tanti faceva sì che avevamo bisogno di tanto capitale requirement FINDRA questo qui la FINDRA voleva che è molto bello come requirement è strano che però non faccia un'eccezione per quando il prodotto non è pubblico cioè quando non hai clienti però comunque sono regole loro e va bene e poi c'è stata secondo me una grossa transizione negli Stati Uniti non solo secondo me in cui per cui gli investitori fino prima del 2020 2019 investivano ancora tanto sulla potenzialità sul potenziale di crescita erano le metriche che gli interessavano di più agli investitori ad esempio quando guardi Uber Spotify insomma tutte queste aziende che non guadagnavano non avrebbero guadagnato esatto Tesla finiva le lettere per fare il round A B C D E F esattamente noi costantemente bombardati da profitto era la metrica che gli investitori volevano vedere prima di investire in che anno di che anni parliamo è l'anno scorso ok quindi certo si chiama innalzamento dei tassi di interesse quello è la bolla delle AI ma sì a lei vai gross a cannone investiamo miliardi quando i tassi sono più alti il costo opportunità è certo ok chiaro quindi ha un po' tagliato i finanziamenti per startup molto sperimentali ma vogliono già vedere i profitability ok sì però era anche paradossale perché giustamente dicevano vogliamo investire su cose più sicure e tutto quanto però quando si trattava di AI lì invece era molto selvaggio come mondo cioè lì si investiva veramente in cose molto più sperimentali in un mercato molto più competitivo perché comunque c'è stato anche questo problema qua è stato molto più difficile fare i giri di investimento rispetti agli anni prima e si è creato questo circolo per cui gli investitori tutti erano molto interessati all'idea però volevano vedere delle metriche di lancio quindi quanti clienti potevano avere mi è da pensare che il mondo AI i finanziamenti vanno su qualche zero in più e quindi hai diversi tipi di VC mentre vostro mondo è quasi considerato private equity più basso e quindi gli investitori interessati con target di fundraising più basso erano diversi tipi di investitore magari dei club deal dei gruppi di private equity investor angel investor che non so non è seguoia non sono dei VC firm così a cavolo ok quindi è più difficile per assurdo alzare 5 milioni con un prodotto meno se vogliamo hot rispetto a keyword del momento che però riescano a tirare su decine o centinaia di milioni assolutamente e poi and in team voi non erate personaggi di spicco avete esperienze immagino non lo so però erate giovani erano giovani in realtà siamo riusciti ad avere un personaggio di spicco che è stato menzionato nella chat qualcuno ha parlato del fatto che Taylor Swift avessero insomma ha avuto un grosso litigio con suo ex manager esatto questo vecchio manager era nella board siamo riusciti ad averlo nella board della startup si chiama Scooter Brown fondamentalmente quello che è successo ma che in realtà succede a tanti artisti quindi dipende un po' come si racconta la storia però quello che succede agli artisti è che quando sono giovani pur di avere un investimento nel presente danno i diritti musicali che in quel momento non valgono tanto per un cash flow in quel momento poi questi artisti crescono e si rendono conto di aver fatto magari non un errore ma che li rivolgono e Taylor Swift è talmente enorme che ha potuto riregistrare i suoi cd per riavere i suoi diritti musicali e chiedere ai suoi fans di scrivere sì tra l'altro anche Scooter Brown c'è stata questa cosa come personaggio sembra che abbia qualche problema e infatti non è stato così diciamo attivo nella nostra botte come aspettavamo sarebbe stato il suo obiettivo era quello di trovare degli artisti che avrebbero firmato con noi per fare gli IPO con noi ma anche lì è andata quindi questa è un'esperienza molto fresca nel 2024 ancora stavi lì è finita è andata sì è finita verso il dicembre novembre l'anno scorso ok e quando è che ti sei hai deciso di guardarti attorno e hai cambiato anche nazione finita l'esperienza in realtà sì questa mi ha permesso di spostarmi mi sono spostato mentre lavoravo a questa azienda qua l'idea era di creare un team qua Londra avevo trovato avevo iniziato a lavorare con un mio caro amico che avevo conosciuto in Cina e di nuovo il contatto di queste comunità molto utili che è venuto con me abbiamo fatto un bellissimo lavoro a livello di ingegneria insieme e poi quando insomma hanno iniziato a finire i soldi si vedeva che non si andava da nessuna parte ho aperto l'itcode e ho iniziato a fare è divertito sì e la scelta di abbandonare l'America è stata opportunissima se sei trovato di là oppure era comunque te hai rilotto le scatole o c'era la parentesi americana era chiusa o cosa in realtà è stata una scelta che ho fatto con la mia ragazza che il punto di partenza che volevamo lasciare New York per provare qualcosa di nuovo prima di fermarci da qualche parte a me New York piace un sacco in realtà mi manca anche come città però verso diciamo dopo i 30 anni se uno non è molto ricco è complicata come città soprattutto se magari uno vuole avere una famiglia bisogna fare dei grossi sacrifici come vivere in un bilocale un tipo di vita diversa invece è diverso c'è molto più spazio e più tranquilla ma tanto voglio andare in questo visto che hai menzionato la tua fidanzata sono curioso di capire in che in che stage entra in gioco questa fidanzata se viene dall'Italia se viene da da romantico avrei dovuto dire che avendo investito nell'università è lì che lo incontrate quindi la cosa più bella dell'università americana è stata la fidanzata che è ancora adesso ah sì l'hai conosciuta dall'università ci siamo conosciuti facendo un paper di machine learning insieme un progetto all'università sì ci siamo conosciuti a Cornell lei è americana ok quindi per lei andare via in America comunque per lei è espatriare non è tornare a casa o andare da un'altra parte per lei è esattamente sì per lei è stata una scelta di andare fuori dal paese diciamo che appunto l'idea era di lasciare New York più lei che io voleva lasciare New York diciamo le due cose più papabili erano la West Coast per ovvie ragioni di carriera e diciamo di possibilità di vivere in una realtà un po' più residenziale lasciando stare i costi esatto vuol dire non è che è meno facile credo che New York sia comunque un salto di qualità anche come qualità della vita in generale se sei over 30 se vuoi far famiglia sì e devi lavorare in big tech o in una start up che va molto bene per poter permetterti un stile di vita normale cioè una casa perché costano tanto poi proprio per queste ragioni qua non si ti aspettava no poi proprio per queste problematiche abbiamo deciso di no e diciamo avevo voglia di riavvicinarmi un po' alla famiglia almeno per un po' di tempo e quindi l'idea di avvicinarmi in Europa era qualcosa che mi interessava anche lei aveva voglia di provare a vivere in Europa e Londra diciamo che si trova abbastanza bene come ponte tra gli Stati Uniti in Europa sia per l'inglese che a livello di carriera no no stai dicendo che dopo questa è stata generazione è vero ragazzi Zurigo ma New York e San Francisco comunque se la anzi credo che New York Manhattan sia peggio di Zurigo come costi per l'alloggio penso che sia molto peggio di Zurigo solo l'alloggio per il resto è molto più economico ma l'alloggio è fuori di testa sì cioè qui trovi io vivo un appartamento di 100 metri quadri a Manhattan cioè non lo so non so ma come prezzarlo quanto lo baghi 8.000 al mese 10.000 al mese appartamento di 100 metri quadri ma adesso se non sbaglio il prezzo medio per una one bedroom a Manhattan sei sopra i 4.000 porca miseria il prezzo medio è decisamente più economica l'affitto sì quindi poi vabbè c'è anche l'inflazione del dollaro che ha cambiato tanto i prezzi negli Stati Uniti però sì è molto caro e quindi smoltiamo baracca e burattini e quando è che vieni quando è che torni in Europa Europa sono tornato un anno e mezzo fa adesso sì un anno e mezzo fa in Europa Paggio Stati ah ok 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 pensavo che erano meno mesi che lavoravi in Amazon invece è un anno essenzialmente no in realtà sono e no perché ho fatto la start up l'ho fatta un po' a New York e un po' a Londra ok ok un po' di di tutti e due perché eravamo in pochi eravamo remoti eravamo in due a Londra ok ok quindi non è stato il cambio per Amazon ma te l'hai già spostato e poi Amazon sempre a Londra poi Amazon sempre a Londra sì l'idea era dopo che avevo finito la start up ero un po' stanco del della volatilità del non sapere la direzione dell'azienda e quindi noto che la mia vita è un po' un passo da un'azienda più stabile a una start up a queste cose e quindi l'idea era di provare a vedere com'era la realtà in una big tech vera perché IBM ok non dovrei dirlo così è molto brutto però diciamo IBM forse non ha questo tipo di cultura così diciamo rapida innovativa che magari ah sì cioè non è famosa per questa esatto altre aziende hanno e quindi avevo voglia di provare so che a Londra ce n'erano diverse e quindi mi sono messo a fare colloquie dai rispondo al volo non sai ragazzi non sapete se seguite qualche mio video sapete io pago molto poco ma perché sono una casa sono entrato anni fa e quindi pago poco pago 2.004 di affitto per un 100 110 metri quadri 4 stanze e però il prezzo di mercato adesso di un appartamento identico è sui 4.000 e 4.500 per cui io sto sotto costo tant'è che infatti il landlord sta valutando se buttarle giù e ricostruirle qui a Zurico ci sono delle leggi cioè gli affitti non te li possono alzare così debotto senza senso solo in caso di renovation oppure se appunto buttano giù e ricostruirle cosa che stanno facendo un po' ovunque Zurico dovunque vai vedi le bare attorno alle case che sono tipo dei paletti che indicano la nuova dimensione dell'appartamento dopo che lo buttano giù lo rifanno e quindi attorno a me parecchie case vecchie le stanno ributtando giù quindi probabilmente arriverà la mannaia prima o poi però Zurico ormai costa un K stanza tre stanze 3K quattro stanze 4K la mia è una 4.5 è considerata quindi trovi 4.500 al mese franchi svizzeri qualità della vita a Londra versus New York così rispondiamo anche come è vivere a Londra dal punto di vista del lavoro lato finanziario e vita di tutti i giorni ti faccio domande sulla vita a Londra sì la qualità della vita secondo me rispetto a New York è più alta da quasi tutti i punti di vista Londra è una città decisamente più tranquilla con molto più verde molto più in qualche modo a misura d'uomo come essere umano cioè c'è più spazio New York New York di solito si parla di Manhattan perché c'è poi una New York diciamo del Queens più profondo del Bronx di Staten Island che è una New York diversa ma qua andiamo per scontato il centro il CIT che spesso Zuligo risulta più cara di New York perché New York c'è altro tutta Staten Island diciamo che se prendi solo Manhattan è più cara di tutte tutte le altre batte tutto esatto lì la qualità della vita è più bassa perché sei circondato dal cemento dal casino c'è anche una mentalità che è molto diversa la gente non è lì per vivere ma la gente è lì per raggiungere un obiettivo che si sente tanto a me piaceva tanto questa cosa non fa tanto bene secondo me a lungo termine però questa cosa di essere un po' schiacciato sempre intorno a persone vivevo in questo piccolo monolocale in un palazzo di 30 piani di fronte alle Nazioni Unite c'era le macchine tutto il centro a me piaceva tanto c'era le macchine dovunque sì 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 mi piaceva tanto perché comunque secondo me è un'energia che se o ti schiaccia oppure ti spinge tanto se riesci a assorbirla ti dà veramente voglia di fare di uscire è tutto molto più vicino e quindi vado nei lati positivi adesso di New York perde la qualità di vita però l'energia tutto gravita intorno a Manhattan quindi io andavo veramente in bici ovunque si fa anche a Londra ma le diste molto più sparsa come città quindi potevi uscire con gli amici andare a un evento andare a una conferenza tutto molto vicino veloce che era entusiasmante come cosa ma come sto dire il lockdown a Manhattan eh quello è stato abbastanza duro perché ero in un monolocale eh sono stato un anno e mezzo senza tornare in Italia cazzo senza vedere la famiglia senza vedere nessuno quanto stavi non eravate chiusi in casa voi a New York o sì? no non eravamo no non c'è mai stato un lockdown come quelli in Europa da nessuna parte negli Stati Uniti però sei comunque a New York quindi cioè non era bello uscire perché soprattutto quando non c'erano i vaccini che quindi c'era ancora un grosso timore di star male 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 anche se insomma eri giovane cioè io uscivo di casa c'era un palazzo di 30 piani quindi non è che potevo andare a farmi la passeggiata anche intorno al quartiere eh quindi quello è stato molto difficile il fatto di non poter tornare in Italia è dovuto il fatto che avevano chiuso l'entrata a persone col visto che arrivavano dall'Europa eh è stata una roba abbastanza surreale quella che fecero tant'è che io quando dopo un anno e mezzo ho detto basta cioè dovevano tornare a vedere la mia famiglia dopo tutto quanto sono tornato sono dovuto andare 21 giorni in Messico a fare la quarantena quindi io ero da Cuneo quindi in montagna insomma in provincia dove non c'era tanta gente sono dovuto andare a città del Messico per 21 giorni per insomma togliere il rischio del covid oh per poter entrare che strano ok sì quindi è stato abbastanza difficile sì perché il spazio chiuso e fortunatamente non ho perso il lavoro cosa che è successo a parecchie persone hai giunto anche stimulus cieco no non ti chiedeva nessuno ancora di no no quello lì con gli stipendi diciamo da tech americano mi sono più imbarazzante l'avessero dato c'era gente che ne aveva bisogno sul serio tornato da New York una settimana ho speso come 20 giorni in giro per il Giappone lo fanno lo fanno c'è un sacco di cose che ho segnato domande da farti ma solo io penso che andare a vivere in Europa in città a paesi bassi e provare a fare full remote questa l'ho segnata perché in realtà volevo domandarti ti è mai interessato tentare di lavorare da remoto oppure a te proprio piace andare nel luogo di lavoro tu hai sempre lavorato on site tutto il tempo io ho sempre lavorato on site allora ci sono due cose siccome da vedere qua la prima è che non è tanto il lavoro da on site ma mi piace stare in città dove posso partecipare alle opportunità dove posso conoscere le persone dove insomma si crea questa situazione dove posso allargare e crescere le opportunità far crescere le opportunità lavorassi da full remote anche per la migliore azienda del mondo per esempio da Cuneo il momento in cui quell'azienda non c'è più o io non ho più quel lavoro è molto difficile può incontrare persone certo è molto difficile però a me piace vivere in città grandi internazionali con la possibilità di conoscere gente da tutto il mondo quindi nonostante capisco che ci sia un tenore di vita migliore nelle città piccole europee ad ora non è quello che vorrei fare e quindi Londra ti piace? ti trovi bene? sì 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 mi manca un po' questa dimensione molto energetica che aveva New York però è molto più vivibile come città davvero costa costa tanto però comunque non è più un monolocale veramente minuscolo che aveva New York c'è più spazio c'è più zona 6 sono a nord zona 2 2 ok zona 2 verso la zona 3 ok ok e immagino che in Amazon però a livello di salari sia stato un salto in alto anche se in Inghilterra storicamente anche per Google pagava molto poco rispetto diciamo a parità di livello con tante altre realtà c'era questo questa stranezza non erano alti gli stipendi londinesi sì non sono allora la cosa strana degli stipendi che vedo qua a Londra è che c'è un'enorme varianza si dice varianza in italiano cioè veramente dipende dal ruolo dal livello anche da quanto è negoziato vedo grosse differenze stesso livello stessa azienda le band sembrano molto alti è un buonissimo stipendio comunque rimane Big Tech paga bene rispetto alla media penso in qualsiasi posto non è uno stipendio americano ma anche non ho i costi americani pago tasse ma ho un sacco di servizi pubblici che a New York non avevo nonostante pagassi il 35% di tasse però vabbè le tasse americane sono altissime eppure sono una civiltà che ha zero servizi pubblici sì beh altissime a New York e in California fuori non so quanto siano alte in certi posti è lì è il grosso del PIL per cui sì sì non c'è nessun servizio sì no è vero non c'è nessun servizio pubblico o proprio poco beh la metro di New York dai applausi alla metro di New York sì sì ma comunque costa non è che te la sì c'è la metro è vero però preferirei gli ospedali o la sanità sì stavo stavo per dirlo stesso ti senti più sicuro e tranquillo a Londra o a Manhattan a Londra sì io in realtà a New York sono andato tante volte penso almeno una 7-8 in quegli anni là e oggettivamente ho viaggiato anche di notte raramente mi sono sentito a disagio più a San Francisco o molte più volte a disagio a New York a Manhattan in realtà mi sembra molto più safe di quello che la percezione ci dice ma infatti allora hai ragione io ho viaggiato tantissimo a Manhattan di notte anche in zone più difficili non mi è mai successo niente il motivo per cui dico che è più pericoloso è che comunque di episodi disparatorie succedono con una regolarità che a Londra non esistono ok parlo di sparatorie il grosso problema degli Stati Uniti sono le persone con problemi che vivono per strada l'accesso alle armi in un paese in cui le armi sono comunque legali in una maniera o nell'altra è molto più facile quindi avere senza tetto nella metro con una pistola e che succedono queste cose io so di un ragazzo delle mie zone tra l'altro delle Langhe che è stato preso mentre tornava dal caccetto la domenica sera e gli hanno sparato sono episodi chiaramente statisticamente non so quanto siano rilevanti però rispetto a quello che sento a Londra che ti rubano il telefono ti puntano il coltello però siamo due misure diverse però sì comunque Manhattan rimane molto sicuro non mi è mai successo nulla però il worst case sembra brutto rispetto a quello che vedo qua e prendiamo un po' ti lascio andare una domanda ce l'ho io l'Asia non c'è più pensato o per te è un'esperienza a parentesi chiusa un anno ci hai vissuto allora io ho una cosa che mi sono reso conto io probabilmente non vivrò più in Italia però voglio vivere un'affermazione sì vabbè non è che lo sto promettendo a nessuno se cambia la caglia però probabilmente proprio in Italia è interessante ok non sei tra gli italiani che prima o poi voglio tornare da un certo punto ma allora ricordiamo anche il fatto che io sono mezzo francese quindi metà della mia famiglia comunque non è in Italia e già fa fa sì che insomma cambia un pochettino le cose però sì non 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 ho voglia di contribuire a alla situazione in qualche modo ridare all'Italia perché mi ha dato tanto però l'idea di e di passarci del tempo in Italia ma l'idea di di vivere perennemente tutto l'anno non non so se se è una cosa che vorrei e il posto in cui mi fermerò voglio che sia un posto in cui posso assimilarmi e sentirmi parte di quel popolo di quella nazione di quella cultura è una cosa abbastanza importante per me non voglio rimanere un expat per il resto della mia vita e l'Asia è molto difficile per una persona diciamo non asiatica di poter arrivare a questa cosa l'integrazione è il problema ok vuoi cercare vuoi mettere radici da qualche parte voglio mettere radici e sentirmi parte per questo secondo me gli Stati Uniti sono un paese fenomenale perché sono molto forti su questo ok perché non lo so dici nel senso che gli Stati Uniti hanno come forza il fatto che fino a poco fa era una terra di nessuno quindi chiunque va lì diventa un pezzo del territorio che è l'esatto opposto del Giappone che ne so posti in cui c'è chi è di lì e tu sarai sempre uno straniero in America sono tutti stranieri sempre sono nati come tutti stranieri però poi dopo le radici non le metti mai veramente le metti sempre non lo so mi fa strano secondo me questa cosa che negli Stati Uniti innanzitutto l'americano non esiste cioè non c'è un grosso stereotipo i valori in cui ci si riscontra sono valori che si acquisiscono non coi quali si nasce non è necessariamente un colore della pelle neanche una lingua in realtà o una religione o insomma questi tipi di cose sono più ideali se non voglio dire libertà perché è un po' una stupidaggine di mettere radici ti interessa che integrarti in una cultura preesistente ok esattamente e poi l'altra cosa bella degli Stati Uniti è che puoi sentirti americano senza rinunciare a quello che sei io non voglio rinunciare di essere italiano o francese per diventare qualcosa gli Stati Uniti io posso sentirmi italiano francese nelle comunità che ci sono e anche americano in Inghilterra non lo so in Asia mi è sembrato più difficile ok quindi l'ipotesi di tornare in America c'è sì quella la fidanzata attuale è americana tra l'altro c'è sempre quell'ipotesi è una porta che teniamo e vedremo come andranno i prossimi anni bello se avete qualche domanda questo è il momento migliore intanto ho qualche domanda che ho salvato te le faccio e vediamo un po' questa mi piaceva molto sempre del Mr. Nocio che è stato molto attivo stasera mi chiede se è un lettore hai libri interessanti da consigliare sull'argomento software engineering e aggiungo io e anche su altro c'è qualcuno che aveva notato alcuni libri dietro e l'aveva commentato in chat sì 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 leggo abbastanza diciamo software engineering è un argomento abbastanza ampio il mio libro comunque preferito tecnico che secondo me hai fatto benissimo e che si conosce si chiama data designing data intensive applications è quello rosso col topolino tipo davanti della O'Reilly ok se non lo conosco forse era recente design è un nome che mi piace tantissimo design data intensive mi pare si chiama una roba del genere ok col topo sì classico topo non so cos'è non so cos'è st'animale aspetta che chiamarlo chiamarlo topo sta cosa qui è un ah no è un foccio non cinghiale non è il topo ma così sì sì quello è molto bello perché spiega veramente bene come sono fatti ad oggi quindi relativamente recente come è fatto un database come è fatto un key value store come sono fatte le transazioni come è fatto un sistema distribuito consensus però è spiegato veramente nel dettaglio ma senza essere prolisso ed è molto utile anche per i colloqui io mi faccio sempre il ripasso prima di fare il system design quei colloqui e buttare qualche keyword da lì ok non conosciamo la mia relazione però sono curioso me lo segnerò può darsi che lo recupererò in USA eventualmente tornaresti a New York o proveresti a vivere altrove? penso che hai già risposto a questa domanda ma ci sono tante considerazioni da fare una grossa è anche la distanza cioè non ho voglia di essere troppo lontano dalla mia famiglia in Italia comunque forse è passato male ma cioè io ci tengo ancora alle persone qui in Italia tantissimo ma è che semplicemente non mi ci vedo vivere lì ma mi ci vedo avere delle relazioni e la west coast è comunque lontana quindi non lo so ci penso spesso la mia ragazza è del Texas il Texas è anche un posto interessante non so se riuscirei a viverci però ci sono delle città interessanti beh adesso tutte le aziende di Elon Musk andranno lì per cui c'è chi chiede se mi ha pensato di prendere un dottorato se sì o no per quali ragioni no perché diciamo allora no ci ho pensato però sapevo che non sarei stato particolarmente bravo a fare ricerca ed ero in un mondo in cui mi era andata bene di essere già in un master di un anno ero incanalato in quello quindi era più facile andare in quel mondo il dottorato secondo me è un grosso problema che c'è il rischio che lavori per tanti anni su una cosa che poi non verrà implementata e non voglio definirlo tempo perso perché non è mai tempo perso però è difficile da giustificare quella opportunità comincia ad essere altra esatto anni in cui potresti il problema è un'opportunità se non avesse tempo infinito farei anche cinque dottorati diversi ma comincia ad avere un grosso opportunità non trascurabile esattamente sì c'è altra domanda interessante di Franco Forze il buon vecchio Franco Forze nei primi anni di lavoro conviene rinunciare a un lavoro veramente ben pagato ma poco formativo per lavorare in azienda dove si hanno più possibilità di imparare questa se la fai a me è uno dei miei cavalli di battaglia per cui io rispondo subito assolutamente sì uno non dovrebbe ottimizzare per il reddito all'inizio certo magari ecco io parlo sempre a bocce ferme se stiamo in una condizione in cui come quella del nostro Marco che magari stava in un paese straniero doveva comunque mantenersi c'erano altre condizioni ovviamente non so tu sia io penso penso direi anch'io di sì mi chiedo più che altro che tipo di situazione sia a me non è mai capitato di avere un lavoro dove ero pagato meglio ma poco formato per andare in un lavoro dove si ha più possibilità di imparare sarei curioso di capire in realtà in realtà la scelta la start up all'inizio probabilmente se applicavi per big tech e ce la facevi perché prendevi più del doppio però non so se avrei definito google non so se avrei definito google poco formativo è vero è vero è vero però sì detta così sì soprattutto l'alternativa era andare in un'azienda di consulenza italiana probabilmente sì 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 detta così direi di sì no no vai tranquillo ci piacciono tantissimo le tue domande forse la chat domanda sul fire è d'obbligo cos'è per te la ricchezza e ambisci un giorno a non dover più lavorare sei ancora giovane sei ancora giovane domanda allora sì ho una grossa fortuna per cui non ho paura di lavorare e a 28 anni secondo me va bene sicuramente a 50 avrò un altro rapporto quindi non penso tanto alla pensione come insomma timore di dover ancora lavorare tanto ma sicuramente pianifico a livello finanziario a riguardo se vuoi possiamo parlarne la ricchezza è una bella domanda dell'aspetto come investi essenzialmente sì investimenti sono investito 80% in cripto no scherzi no è molto basilare un 80% 20 80 azionario 20% obbligazionario sono investito azionario o il classico world insomma sulla borsa inglese adesso un po' bilanciato con degli etf europei e mercati emergenti per scostarli hai scelto di essere un po' sottesposto all'america ma perché già col lavoro lo sono ok è vero perché avrai anche la tua policy con le a parte non avrai ancora nessuna azione amazon vestita no ma tanto venderei per comprare indici credo ovviamente in amazon ma non ho voglia di scommetterci mettere troppo in un tempo certo sì ho un 80% molto noioso ma non nessuna ambizione di guadagnare tanto nei prossimi due anni sto bene con lo stipendio che ho sono molto contento del fronte temporale che ho riguardo agli investimenti e ovviamente utilizzo tutte le cose di passazione fiscali questa è interessante come domanda come in teoria a parte se usi Interactive Brokers UK è lo stesso US è una succursale per cui per me sarebbe proprio zero come passaggio non so però c'è il UCTI c'è la ci sono gli ETF europei c'è stato a Londra a Londra penso che sei ti è possibile comprare quelli non-usage no what magari dico una stupida no no mi sa proprio di no tant'è che proprio infatti io all'inizio volevo tenere il broker americano sono stranito perché sono abbastanza convinto che UK abbia una era nell'Unione Europea fino a un taxation treaty ok ok sono curioso quindi a Londra la raccomandazione generale è comprare roba usage sì però mi hanno fatto il passaggio loro ok che broker utilizzi se posso chiedere interactive brokers quindi uso interactive brokers 8020 ETF utilizzo ci sono degli account di agevolazione fiscale nel Regno Unito dove si può mettere una somma tutti gli anni per ISA ISA quello è un bel cheat quello è fantastico perché alla fine è 20k l'anno dipende dagli anni è iniziato a essere 20k adesso ok perché essenzialmente non è un è un tax è un pro tax exemption account non è neanche un tax capital gain no non è neanche un asset pensionistico sono proprio soldi free che figata proprio figo ISA sì sì 20k all'anno sono tanti eh sono tanti col compounding bene ragazzi io direi che abbiamo abbiamo coperto tutti i topic che volevamo Marco grazie tantissimo se qualcuno vuole contattarti o vuole scriverti o vuole saperne di più ti può trovare dove sì non mi rompete le scatole no no va benissimo forse twitter e linkedin sono i posti più più facili ok twitter sicuramente è più facile twitter hai un account si trova col mio nome col tuo nome sono l'unico che lì si può mi si può scrivere direttamente e rispondo linkedin ha un po' meno dai prendo l'ultima perché hai menzionato della musica se suono che sento musicale ho notato lo spartito suono suono la chitarra suono la chitarra jazz e qua lo studio dove lavoro ogni tanto faccio le pause per per suonare la musica è qualcosa che avrei sempre dovuto approfondire ma non c'è mai stato tanto tempo grazie Marco è stato un piacere grazie chi vuole contattarlo lo può trovare su linkedin o su twitter per chiedere maggiori informazioni o saperne di più ciao grazie a voi è stato un piacere ciao buonanotte ragazzi grazie a tutti